Firmato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il protocollo d'intesa La scuola va a bordo, un'iniziativa voluta dal Comune di Napoli per avvicinare gli studenti delle scuole medie alla conoscenza del mare e della navigazione. Il progetto, che ha già coinvolto le città di Ravenna, Livorno e Trieste, partirà con interventi di formazione in classe e culminerà nell'adozione simbolica di una nave da parte degli studenti. Tutte le attività non comporteranno spese per i soggetti pubblici che hanno sottoscritto l'accordo, ma saranno finanziate con sponsor privati. Il mare è un pezzo fondamentale di questa città, non lo è solo perché bagna questa città, ma perché nel mare si sviluppano attività, conoscenze, relazioni con altri paesi e con l'attività produttiva della nostra città e della nostro paese. Per questa ragione abbiamo pensato di mettere in relazione tutto ciò che è l'attività portuale, che è fatta di attività e di presenza della città di Napoli, ma che è fatta di decine di navi che arrivano e partono tutti i giorni con le scuole. Farne materia di studio specifico, di relazione, di conoscenza, di visita, ma anche di comunicazione via web e via radio fra le classi e le navi in navigazione, per cui ogni classe potrà adottare una nave e in questo modo partecipare compiutamente all'attività portuale. I ragazzi resteranno in contatto via e-mail con gli ufficiali di bordo, comunicando in inglese. Ad aprile e maggio gli studenti visiteranno il porto cittadino. Le iniziative realizzate nelle diverse città italiane confluiranno in un unico grande evento nazionale il 20 maggio, in occasione della Giornata Europea del Mare.